basato su eventi reali, così come riportati nel libro di Mormon, Un altro testamento di Gesù Cristo. La storia di Gesù Cristo Laman, dimmi, cosa pensi di questa bella nave che abbiamo costruito? Che abbiamo costruito? Vuoi dire la nave che ho costruito! Ehi, spostati! Sì, spostati! Vai! Tutto ad un pezzo! Sono brillante! Vino! Sì, spostati! Padre. Laman. Che vuole. Cerchiamo di non dimenticare quale potere ci ha portato qua. Temo grandemente che il Signore si possa adirare con noi. Nefi teme grandemente che il Signore possa adirarsi con noi. Va di sotto. Laman, temo che il Signore ci colpisca a causa della nostra iniquità. Non vogliamo che il nostro fratello minore sia governatore su di noi. Laman! Lemuel, fermati! Lemuel, lasciatelo! Basta! Lasciatelo andare! Prendi la corda! Regalo! Laman, fermati! Basta! Ora vediamo se il tuo Dio riesce a liberarti da queste corte! Andate di sotto! No! No! Passerà! Passerà! Non funziona! Tieni la dritta, Tom! Tieni la dritta, Tom! Non funziona! Cosa! Iniziamo! Tieni la dritta, Tom increase in力! Bello! Passerà! Tieni la dritta, Tom Vorteil! Prendi la dritta, Tom прямо sya Bryce, llelelelelelelelelelelelelelse! Tieni la dritta, Tom ви, Tieni la dritta! Tieni la dritta, Tom, kaikilità più esata! Grazie a tutti